Andiamo al dunque. Io ho detto che a partire dal 24 febbraio 2022 la nostra classe dirigente è andata in encefalogramma piatto. La Serracchiani a partire dal 24 febbraio del 22 ha assunto decisioni rilevanti con riferimento alla guerra in Ucraina? Questo ho detto io, ho detto che a partire dal 24 febbraio 2022 la nostra classe dirigente ha smesso di pensare.